Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con un nuovo death run Oggi partiamo da sniper Allora prendiamo subito i cecchini Allora questo qui dovrebbe essere Un death run ragazzi vecchio stile Come vedete ci sono le barriere Gli altri devono correre vai spariamo subito Ok perfetto quella cosa è già esplosa Qualcuno è morto Si in tanti sono morti però C'è ancora qualcuno vivo Allora appunto ci sono le barriere Ragazzi però non so Forse è leggermente impossibile per i runners Lì c'è qualcuno spariamo Niente non l'ho preso usciva la testa Insomma da quella zona Eh però devo dire uh spariamo Vai mitragliamolo merda eh perché qui abbiamo il cecchino Vabbè quello è morto lo stesso Abbiamo il cecchino Ragazzi che ricarica dopo un colpo Spariamo a quello Che cazzo si era bloccato io stavo Stavo insomma cercando di mirare Prima lì c'è uno boom Niente da fare non l'abbiamo preso Allora vediamo un po' devono passare Niente comunque I sniper mi sa che sono troppo vicini Cioè ragazzi veramente Qui sarà un po' impossibile Per i runners Completare Completare la strada Penso proprio di sì Allora Forse sono rimasti soltanto in due vivi Che sono fermi lì Ok qualcuno è nascosto al radar Va bene ma avrei poco da fare Sicuramente Non riuscirà a fare molto Allora vediamo un po' Noi miriamo da questa parte perché Teoricamente dovrebbero uscire da lì quindi Non so Aspettiamo Rimaniamo ragazzi tranquilli Quello per il momento Per il momento non si muove Vediamo Forse è passato Vediamo un po' E stanno mirando Qualcuno sta mirando Già più avanti Quindi forse Mentre ho cambiato Mentre miravo Qui indietro Qualcuno è andato avanti Ragazzi non ne ho idea Comunque rimaniamo un attimo tranquilli Allora lì abbiamo Le palle da bullying Che servono per poi Fare cadere Ovviamente i runners Però niente Non Non escono Cioè sono rifugiati Lì per sempre Ma questa cosa è incredibile Vediamo se da qui No vabbè Ma da qui neanche Neanche voglio rischiare Uh attenzione Lì c'era una Boom Ok l'ho preso ragazzi Vai 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 più avanti Ok lì c'è l'altro Salta Vabbè Quello lagga da morire È incredibile ragazzi Quello lagga troppo Comunque uno è morto Rimane Soltanto uno Sì infatti Soltanto Ragazzi Un nemico Ok sta andando avanti ora Niente è morto pure lui E niente Vabbè Allora adesso noi partiremo da runners E sicuramente perderemo subito Verremo ragazzi devastati Immediatamente Secondo round Allora vediamo un po' Potremmo correre subito Ma il problema è che lì c'è la tanica Quindi loro sicuramente spareranno subito alla tanica Entriamo qui Fammi entrare nel container Quello è salito sopra Forse Ok ha rischiato seriamente di morire Questo qui ragazzi Allora nulla Rimaniamo un attimo calmi Tranquilli Occhia la tanica esplosa Dovremmo passare tutti Allo stesso momento Per ragazzi Non farci colpire O quantomeno Sicuramente alcuni Verranno colpiti Però Però sarebbe La migliore cosa Allora intanto Dobbiamo indietreggiare Perché ci sparano Allora Quello sta andando un po' avanti No che cazzo fa Sta tornando indietro Quel compagno Comunque Potremmo provare ragazzi ad andare Adesso Non lo so Non so veramente Non ne ho idea Ok quelli stanno mangiando degli snack Perché sono stati già colpiti Infatti quello è un colpo Proprio nel polmone Vedete un po' Ancora vivo Lui lì tranquillo Che cazzo mi hanno preso Come Va bene Ricarichiamo un attimo Anzi no Lì c'è un giubbottino Ragazzi io provo ad andare Come va va Ma è velocità Attenzione Via 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 Ok ci siamo ci siamo Calma 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 Stiamo tranquilli Stiamo tranquillissimi Via non fatemi Non fatemi attaccare Alla barriera Perché altrimenti Che cazzo è Sono morti tutti ragazzi Hanno fatto tutti La stessa animazione No vabbè Cioè io Io non lo so perché Ma io non sono morto Qualcuno che era Nella mia stessa posizione È morto ragazzi Non lo so Comunque L'importante L'importante è che ci siamo Allora Vediamo un po' Andiamo Andiamo nascosti al radar Tanto saluto Le persone che stanno Giocando con me Allora niente C'è uno in fondo Neanche tanto in fondo Ok stiamo nascosti al radar Vediamo se il mio compagno va Comunque il giobbottino Non l'ho preso più Ah vabbè Ovviamente mi hanno sparato Quindi Allora siamo nascosti al radar Ok non guardano Per il momento Nessuno Cioè non guardano qui Per il momento Vediamo un po' Oh merda No vedete Ma come faccio ragazzi Andare avanti È impossibile È veramente impossibile Il mio compagno È visibile al radar Questo qui davanti Quindi di conseguenza Io è come se fossi già Nel loro mirino Niente dovrei andare Vabbè io provo Provo ora a saltare Ed andare più E che stanno mirando Tutti qui Quindi c'è poco No vabbè Siamo morti sicuro ragazzi Allora mi ricarico Inventario Giubbottino antiproietti Quello sta andando avanti Pesante Ok perfetto Vai vai andiamo ora Andiamo ora Che è il momento È il momento Corri 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 Ok perfetto Perfetto Stiamo calmi ora qui Merda forse i piedi I piedi potrebbero colpirli Non lo so Merda L'ultimo Niente L'altro compagno è morto ragazzi Vabbè Siamo fottuti Siamo assolutamente Fottuti Siamo dei morti Cioè non c'è niente da fare Eh vedete Sparano Non No siamo fottuti Siamo assolutamente Ragazzi fregate Allora io ora Vado avanti Ma morirò sicuramente È inutile Stare fermi qui Però ragazzi È sicuro Al 100% Che morirò Quindi 3 2 1 3 2 1 E andiamo Ora vai 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 Attenzione salta 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 Attenzione via 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 Ok andiamo ancora più avanti Ancora più avanti Calma calma ora Calma ora Calma qui Ok 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 Anche quella è andata avanti Ragazzi non siamo morti Strano Devo dire Ricarichiamoci di nuovo Il giubbottino Mettiamo quello super pesante Bastardo non spingermi Altrimenti mi fanno saltare la testa Stiamo calmi Ma lì ci sono pure le bombole Sì vabbè Io non No ragazzi Ok stanno distruggendo le bombole E per forza Perché altrimenti non vado avanti Assolutamente no Guardate quella bombola Che cazzo è Movimenti assurdi No no Oh merda Si stava avvicinando L'avete visto Si stava avvicinando qui Intanto niente Noi dobbiamo avanzare ragazzi Perché già lì mi sparavano Si erano spostati Via via Prendi la vita Prendi la vita Via 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 Ok siamo sopravvissuti Calma calma Tranquilli Aspetta Merda C'è una bombola lì Allontaniamoci Ok perfetto Prendiamo ora Qui la vita E ricarichiamoci Di nuovo i giubbottini Cioè ne stiamo Utilizzando tantissimi Ok giubbottino Ragazzi utilizzato Lì c'è quella tanica Io non vado avanti Non esiste Cioè Allora finora Nessuno è arrivato fin qui Soltanto io e il mio compagno Oh merda Stiamo calmi No quella tanica Ragazzi Cioè non Non posso andare avanti Con quella cosa lì Assolutamente no Assolutamente no Non esiste Cioè non esiste Vediamo un po' Mancano cinque minuti Tanto ancora c'è tempo Quindi Stiamo tranquilli Che poi le armi Sono in fondo E da quel che vedo nel radar C'è il minigun E poi un carro armato Si RPG forse non è Boh non lo so Comunque stiamo Stiamo ancora tranquilli Ragazzi Io se vado avanti Fanno saltare la tanica Quello che mi conviene È andare avanti E poi tornare indietro Così Loro faranno esplodere la tanica Vabbè ragazzi Tentiamo 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 il tutto per tutto Vai corri corri Ok perfetto Torniamo subito indietro Subito indietro Vai la tanica è esplosa Ok Grandissima strategia Non mi hanno neanche colpito Andiamo ora qui avanti Vai Oh merda Ora mi hanno preso Giubbottino ripreso Ehehe E il compagno Questo qui Questo compagno È un bastardo Perché va sempre dopo di me Però la cosa è utile Ora il problema È che siamo pure visibili al radar Eh vediamo un po' Vediamo un po' Ehm Potremmo andare avanti Merda Ok quello sta andando Grandissimo Vai 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 Niente si è fermato Vediamo se posso richiamare l'Ester Cos'è mi hanno preso Oh merda No ragazzi Eh qui mi prendono i piedi Qui mi prendono i piedini Quindi devo andare leggermente avanti Ok qui Abbiamo ripreso il giubbottino Dovremo essere al sicuro ora Vediamo un po' Questi provano a prendermi pure i piedi Allora Stavo chiamando l'Ester Vediamo un po' Vediamo un po' Che ci propone Ragazzi È un death run molto lento Perché è veramente impossibile Quindi dobbiamo fare tutto assolutamente calcolato Niente niente Qui dobbiamo aspettare ancora Ancora dei secondi Vabbè noi aspettiamo ragazzi Noi aspettiamo Il mio compagno è fermo Non si muova assolutamente Rimaniamo fermi per il momento C'è di nuovo il giubbottino Ma non ci serve Vabbè che ci sono No che cazzo è Oh merda Oh merda Calma 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 Avevo chiuso il telefono Perché voglio prendere gli snack Però Uno si è suicidato Allora voglio prendere gli snack Per ricaricarmi pure quel pizzico di vita Ragazzi Allora mangiamo Igo Chaser Vai Ok le merendine Ok mangiamo un'altra Che poi dà solo un morso E praticamente butta La merendina sana Per terra Ok ci siamo Allora ora Lester Dovrebbe essere più o meno disponibile Andiamo Lester Non fare scherzi Ragazzi veramente Ce lo stiamo giocando Ogni Ogni cosa è calcolata Per cercare di arrivare alle armi Vai Nascosta al radar Perfetto Allora Indichiamo a quello Di andare avanti Anche se Anche se non ci andrà sicuro Non ci andrà Proprio mai Nella vita Forse avanti Comunque sono nascosto ragazzi Il mio compagno no Purtroppo Però Però Noi ora Andiamo avanti 3 2 1 Si sta muovendo Ok si sta muovendo No Ok sta laggando Sta laggando ragazzi Vediamo un po' Ok grandissimo Sta attirando l'attenzione su di lui Bra Bra Grande lavoro Grande lavoro Ottimo Veramente ottimo Ha tirato l'attenzione su di lui Ragazzi ora noi correremo Qui la palla non ci sono più Gli hanno preso i piedi Ragazzi noi Noi ora correremo E purtroppo moriremo Sono ancora nascosto al radar Mi gioco quest'ultima carta Come va va Qui non c'è altro da fare Vai 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 Corri 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 Velocità 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 Salta Attenzione Ok siamo vivi Siamo vivi Subito il giubbottino Non ho più vita Giubbottino antiproiettile Subito No merda C'è la tanica lì C'è la tanica lì C'è la tanica lì Ok ok ce l'abbiamo C'era una bombola Più che tanica Mangiamo nuovamente gli snack Ego chaser Comunque devo fare il rifornimento Ragazzi dei fottutissimi snack Siamo arrivati alle armi Siamo fottutamente arrivati Alle armi E ragazzi anche Ai carro armati E io prendo il carro Ovviamente Ragazzi Incredibile Ok quello sta andando Grande 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 Andiamo anche a noi Vai perfetto Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Mamma mia Prendiamo subito Questo carro armato Vai Ragazzi Ogni mossa E' stata assolutamente Calcolata Io e il mio compagno Ce l'abbiamo fatta Grandissimo Lui anche Che li ha distratti Allora Andiamo Vai Iniziate a saltare in aria Merda Quello mi ha spinto Ok non li ho uccisi Vabbè da sotto Dovremmo ucciderli Vediamo di girarci Sì ma che cazzo è Giriamoci carro Non fare scherzi Allora spariamo da sotto Ok uno è morto Ragazzi Spariamo in fondo Perché sicuramente È lì che Infatti Si rifugiano lì Vediamo ancora Ok sono morti tutti Perfetto ragazzi Abbiamo vinto No è incredibile Abbiamo vinto la partita Ragazzi Fantastico Tutto assolutamente calcolato E siamo riusciti a farcela Al primo colpo No veramente Fantastico Death run Veramente epico Comunque adesso Ci andremo a rigiocare Un altro round E ci risiamo Questa volta Abbiamo soltanto un round Partiamo da sniper Adesso vedremo un po' Se gli altri riusciranno A fare quello che abbiamo fatto Noi prima Molto improbabile Anche perché Arrivato a un certo punto Avevo proprio Un pizzico di vita Allora qualcuno Forse già avanza No stiamo calmi Io non colpisco la tanica E purtroppo I miei compagni L'hanno colpita Allora stiamo calmi Vai che forse Qualcuno ora avanza E gli sparo Subito Vai preso il primo Occhio è morto Vai L'abbiamo cecchinato Ragazzi L'ho ucciso io L'ho colpito nel polmone Vediamo se qualcun altro va Che poi bisognerebbe Proprio Oh merda Vai Ah guarda quel bastardo Comunque io devo Sparare all'altezza Della testa Così se li prendo Muoiono subito E merda Quello è passato Allora Allora stiamo Mettiamo la mira qui ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' Se riesco a farcela Vai Passate Passate Vediamo se qualche altro Avanza Anche se non credo E io sto aspettando gli altri Tanto quelli più avanti Da quel che vedo Dovrebbero essere morti C'è uno che mi sta muovendo Non muovermi Non fare scherzi Allora Rimaniamo calmi No niente Quelli purtroppo Attenzione al boom No niente da fare ragazzi Eh questa Questa cosa non funziona sempre Comunque Finora Finora niente Tutti gli altri avanti Sono morti ragazzi Quanti ne mancano? Due C'è incredibile Da 3 anni impossibile Io però Col mio compagno Sono riuscito Ad andare avanti Allora niente Qui prendo Bo altre munizioni Quelli non ho idea Di cosa Di cosa faranno Ok sono nascosti A radar ma Cioè sono fermi Nella parte iniziale Dovevano avanzare All'inizio E qui c'era quello Merda niente Ce lo siamo perso Dovevano avanzare All'inizio Eh però Però niente Hanno perso tempo E quindi ormai Saranno sicuramente fottuti Lì dovrebbe esserci L'ultimo Vediamo Eh vedete Loro stanno cercando Di sparare Eh è passatore Ragazzi è passatore Va bene Allora aspettiamo qui Perché ora dovrebbero cadere Cioè dovrebbero saltare In questa piattaforma E vedete c'è quello lì Spariamo nella barriera Magari lo prendo Prima me Eh insomma Erano riusciti a colpirmi Boom Merda la testa Gliel'ho sfiorata Andiamo No ragazzi Cazzo Troppo Troppo in anticipo Allora questi stanno andando avanti Non è una buona cosa però È molto difficile Che riescano Proprio a farci Allora spariamo Merda ci sono i piedi Vai 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 prendiamo i piedini Eh prima Anche a me avevano sparato Nei piedini Avanzano Comunque ora non sono più Nascosti al radar Cosa buona Io dovrei Vediamo un po' ragazzi Se qui riesco a fare qualcosa Improbabile ma Eh eh c'è qualcosa No no non voglio rischiare Non voglio rischiare Perché poi magari vado giù Comunque si vedeva Forse il braccio di quello Prima Ora non c'è più Ovviamente Mmm Niente Quelli stanno facendo saltare Le bombole Perché Perché le bombole Attenzione c'è quello lì Vai spariamo Occhia l'ho preso E il fatto è che Come Come me Si ricaricano la vita E tutto Quindi sarà difficile I momenti da sfruttare Sono ragazzi questi qui Vai 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 Boom Merda l'ho mancato Vai passa avanti No niente non vale Qui c'era l'altro Niente Ora si ricaricano Di nuovo la vita Niente niente Attenzione Che quello sta andando avanti Bastardo No no Sta andando avanti O forse no ragazzi Vediamo un po' Ah niente Hanno fatto saltare La bombola Allora rimaniamo qui Io ho ricaricato Comunque è difficile colpirli Perché veramente Si muovono all'improvviso Però siamo in tanti Cazzo dovremmo Dovremmo farcela Penso si Quello perché si mette in mezzo Cos'è col cappellino Bianco Nero Rosso Grandissimo stile Allora niente Aspettiamo Ma non si muovono Non c'è niente Da forse vogliono andare Di nuovo Nascosti al radar Ma Essendo che sono insieme Nello stesso punto Non è Non è molto produttiva La cosa Prima io ero un po' distante Dal mio compagno Quindi ci stava Ma così Hanno poco da fare Allora vediamo Se avanzano Vediamo ragazzi Noi stiamo fermi qui Ok Esploso Qualcos'altro Altre bombe Le sono saltate in aria Vai spariamo Non l'ho preso Vai quello si sta buttando No che cazzo è Quello si stava buttando fuori Vai spariamo Merda Andiamo 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 Eh ma che cazzo Neanche uno ne ho preso ragazzi Comunque uno è morto Vai Ok l'ho preso Uccisione assistita Perfetto ragazzi Abbiamo vinto Ci buttiamo giù In segno di vittoria No fantastico Niente Vedete Non sono riusciti a farcela Abbiamo vinto Anche quest'altra partita Perché c'era soltanto un round E nulla Niente che dire Abbiamo dominato Il round precedente ragazzi Dove abbiamo vinto Da runners È stato un qualcosa di Veramente fantastico Poche volte Capitano cose di questo tipo Con questi Deathrun impossibili Comunque Che dire Io spero che il video Sia piaciuto Vi ho riportato questo Deathrun Un po' insomma Vecchio stile Qui da extra Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao